Ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli dagli uffici di prima posizione, come sempre ovviamente, dove volete che giri i video che poi pubblico o su YouTube o su Imprenditori Nazioni, ovviamente nei miei uffici. Allora, oggi parliamo di questa tematica qui, differenza tra online marketing, web marketing, inbound marketing. In realtà, c'è una differenza tra online marketing, web marketing, inbound marketing? Risposta, no. Sapete che l'essere umano è sempre bravissimo a complicarsi la vita, quindi web marketing, online marketing, inbound marketing, in realtà significano solo una cosa, come sfruttare il web, quindi come sfruttare l'online a nostro favore, quindi a favore di un imprenditore, a favore di un'azienda, per generare contatti. Per generare contatti che poi dovrebbero essere trasformati dalla tua rete vendita o da te, se sei un imprenditore che lavori da solo, ovviamente in vendite. La parola e il termine inbound marketing è stato coniato da una società che si occupa di marketing automation che si chiama HubSpot, ok? È una società americana quotata anche in borsa, che ha pensato, per distinguersi dalla concorrenza, di reimpacchettare il concetto di online marketing e web marketing, ma alla fine stiamo parlando sempre della stessa cosa. Quindi andiamo a vedere come possiamo produrre contatti attraverso l'online. Allora, lavorando online, quello che devi fare per produrre contatti per la tua azienda è costruire il tuo ecosistema online per fare in modo che un potenziale cliente, quando cerca qualcosa all'interno di Google, trovi te piuttosto che il tuo concorrente. Ok? Quindi sostanzialmente dovrei andare a costruire un sito internet che non si limiti ad avere le classiche pagine azienda, servizi, prodotti, chi sei, cosa facciamo, cosa non facciamo, ok? E a magari decantare perché un'azienda dovrebbe scegliere te piuttosto che qualcun altro, ma devi andare a lavorare su tutte quelle combinazioni di parole chiave, di ricerca che sono legate a quello che sostanzialmente fai tu. Quindi sai che sono per la semplicità online marketing, web marketing, inbound marketing, come ti dicevo vatti a vedere magari il significato, ma poi il succo è sempre lo stesso. Cioè l'obiettivo di ogni azienda, l'obiettivo di ogni imprenditore dovrebbe essere quello di capire come sfruttare l'online per generare contatti. Se non mi conosci sai che mi occupo di online marketing da più di vent'anni, recentemente abbiamo pubblicato questo libro, ok? Imprenditori di successo scopri come 90 imprenditori coraggiosi in 60 settori differenti hanno sbancato nel web affidando il loro destino a prima posizione. Ecco qui, all'interno di questo libro ci sono tutta una serie di clienti in 60 settori differenti. Qui chiaramente c'è il prima e c'è il dopo. Quindi c'è il perché il cliente ha deciso di venire da noi di prima posizione, ha deciso di affidare la sua strategia di, chiamala come vuoi, online marketing, web marketing, inbound marketing. E ci sono poi i risultati che abbiamo fatto ottenere a quel cliente. Se sei nuovo in questo canale, la cosa che ti consiglio è magari acquistare questo libro, racchiude un po' la strategia che noi utilizziamo e raccontiamo agli imprenditori per vincere nel web, ok? Quando è che si vince nel web? Si vince nel web quando il nostro ecosistema online effettivamente produce contatti che poi si trasformano in vendite, perché chiaramente produrre contatti che non si trasformano in vendite siamo comunque a metà dell'opera. Quindi se sei nuovo ti consiglio di acquistare questo per chiariti le idee e soprattutto per capire come prima posizione lavora, cioè qual è la nostra metodologia. Bene, per oggi è tutto. Spero di averti chiarito le idee su queste tre tematiche. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti.